L'albo dei Presidenti di seggio è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, tenuto ed aggiornato a cura del Presidente della Corte d'Appello di Roma, è costituito, oltre che da particolari categorie di soggetti, magistrati, avvocati di Stato, ecc., anche dai nominativi degli elettori che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla Corte d'Appello di Roma. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria ma non sufficiente per essere designati in qualità di Presidenti presso un seggio elettorale in occasione delle consultazioni popolari da parte del Presidente della Corte d'Appello. Il modulo della domanda si ritira presso l'ufficio Relazioni con il pubblico dal 1 al 31 ottobre di ogni anno. Per altre informazioni le puoi trovare presso l'ufficio elettorale del Comune che è aperto da lunedì al venerdì, 8.30 a 12, martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Grazie!